Siamo qui con Renzoni, due gol e tanto cuore. Quanto lavoro ci hai voluto per riuscire a raggiungere questa vittoria? Allora, sicuramente non poco. All'inizio si è fatto un po' di fatica ad entrare in una partita, però abbiamo combattuto e sicuramente stiamo entrando nei meccanismi che il mister cerca di insegnarci. Quindi saremo sempre più forti, sicuramente. Speriamo che vada così tutte le domeniche. Allora, mister, si aspettava una partenza sprint così dell'Arezzo? Prima nel girone B di Coppa Toscana con sei punti e una vittoria convincente oggi? Sinceramente io sono abbastanza nuovo come la maggior parte della nostra squadra, perché essendo molto giovane, metà della rosa, e anche io alla prima esperienza con le prime squadre, perché ho fatto solo quattro partite l'anno scorso, più che altro non sto pensando ai risultati che poi sono venuti e sono stati piacevoli, però quello che cerco io è ancora il gioco e capire la mia squadra quello che può dare. Finora l'avversario obiettivamente non sono stati troppo impegnativi, però questo non vuol dire nel senso che pensiamo a noi e a fare bene. Questo è quello che sto cercando in questo periodo. Grande lavoro del centrocampo, anche oggi dell'Arezzo, il capitale Lucarini avrebbe meritato del gol probabilmente. Sicuramente, sicuramente, questo sì. Fino che forse lo cerca in maniera ossessiva, forse non verrà il giorno che si tranquillizzerà da questo punto di vista e magari ancora non stiamo lavorando troppo sulle conclusioni. Penso che non ci sono problemi, se uno continua a giocare così e offre questo tipo di prestazioni, sicuramente il gol arriva e anche il bel gioco, come credo che a tratti oggi si è visto.